Anticipazioni Tempesta d'amore Mercoledì 7 agosto 2019 Joshua non è sicuro di potersi fidare nuovamente ciecamente di Annabelle, la quale si riavvicina a Denise cercando in lei sostegno e supporto. In realtà finge, è solo un modo per impedire alla ragazza di indagare sul suo conto. Christopher intanto dimostra a Eva che per lui la famiglia è molto importante e non è soltanto un uomo interessato ai soldi e al potere. Purtroppo un imprevisto rimescola tutte le carte in tavola. Tuttavia il Darkman, seriamente interessato alla signora Salfield, mira a dimostrarle di essere un uomo rinnovato, ben diverso da com'era anni fa. Michael interroga Fabian e dubita fortemente delle sue parole e soprattutto della sua buona fede. In seguito tutti i suoi terribili sospetti trovano tristemente conferma. Il ragazzino sta giocando d'azzardo. Werner convince André ad aiutarlo in una questione che gli sta particolarmente a cuore. Iconopga accetta per poi tentare di approfittarsi di lui.